Avrebbe presentato false autocertificazioni per attestare che l'immobile fosse la propria abitazione principale, in modo tale da ottenere il contributo per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 2009, mentre quell'unità immobiliare risultava invece ceduta in locazione alla data del 6 aprile. Per questo i finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno sequestrato un immobile del valore di 75 mila euro, su ordine del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella a un 37enne aquilano che è stato beneficiario di contributi per l'autonoma sistemazione e per la ricostruzione dell'immobile di proprietà, entrambi inospettanti a questo punto. La misura cautelare giunge al termine di indagini nell'ambito di una più ampia attività investigativa svolta dalla Polizia Municipale in sinergia con il nucleo di polizia tributaria della Finanza, finalizzata a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'accesso ai finanziamenti pubblici, destinati alla ricostruzione degli immobili, costituenti abitazione principale e ovviamente danneggiati del sisma del 6 aprile. Le indagini avrebbero appurato che l'indagato dimorava stabilmente in un altro luogo, mentre l'unità immobiliare oggetto del contributo ottenuto risultava condotta in locazione da terzi e comunque non era di certo adibita ad abitazione principale. Il sequestro è scattato a seguito delle indagini di natura patrimoniale condotte dai militari che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibile all'indagato.